Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video in cui vi faccio vedere come fare un eyeliner perfetto in soli 4 step. Come primo step il mio consiglio è quello di usare un eyeliner in penna perché sono molto più pratici rispetto a quelli in gel o liquidi. Quello che andrò a usare oggi è l'Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. Come secondo step vado a prendere il mio eyeliner in penna e comincio a tracciare la mia linea. Parto dalla metà dell'occhio tenendo la penna leggermente inclinata, tiro leggermente e con l'occhio semi aperto comincio a tracciare la mia linea. Continuo in questo modo facendo dei piccoli tratti e restando attaccatissima alle ciglia. Terzo step la famosa codina. Per farla non dobbiamo fare altro che seguire la forma naturale del nostro occhio. In questo caso andrò a tracciare una linea, sempre con l'occhio semi aperto, una linea che andrà a finire qui, in questo modo, e poi non faccio altro che nella parte sopra andare a congiungermi con la fine della codina. Fatto ciò vado a riempire lo spazio che ho lasciato. Come quarto ed ultimo step, se ci sono correzioni da fare o imperfezioni, andiamo a prendere un semplicissimo cotton fioc, lo bagniamo con un po' di struccante e andiamo a correggere dove serve. Vedrete che con questi semplicissimi quattro step riuscirete a fare un eyeliner perfetto. Quindi se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile, non dimenticate di mettere un bel pollice in su e di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i miei prossimi video.